Porca 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 cimina mamma mia quando arriverò a 70 morti concludo subito l'episodio e porca cimina vacca e che non riesco a superare questo livello porca mamma mia mamma mia ok si sempre con creeper incorporato adesso muovo fico dentro ok ho deciso che da oggi soltanto oggi giocherò con così visto che Anfi e Mario è un gioco così difficile ok bella raga guamare siamo tornati in un buonissimo video allora siamo tornati su Anfi e Mario allora continuiamo con il livello 2 mi ricordate che qui c'era tipo delle spine no proprio lì buco là porca 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 oddio già mi sono scordato no oh mio dio già sono così io crede io non credevo veramente io non credevo veramente che Anfi e Mario salvava giuro porca ma no oddio mio no santo mio santo santa mia santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori io da un certo punto non c'è sta qui qui cado già lo so ah si conosco questa tecnica qui sotto no conoscevo la tecnica non ci ho giocato a questo pezzo però mi ricordavo la tecnica perché ho visto prima un video su internet perché a me ci piaceva sto pezzo qua già lo so come si deve fare allora prima cosa me levo sto creeper da qua vai ok vai vai via si vai questo qua mi ricordo che cibo andavo al su ok l'ho fatto apposta anche se avevo ricominciato da capo sono morto di nuovo ok ce la posso fare via no 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 vai cerchiamo di farcela che cazzo mia che cazzo mia creeper come sempre fammi esplodere i computer si si ok 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 no 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 io raga non ci credo non posso perdere così mamma mia sto gioco è peggio di cat mario come ho detto nel secondo episodio di sette mesi fa che non avevo ancora iniziato a fare sta serie no mi sono sbagliato mi fa scordato che c'era quella mamma mia porcavola ma che ce la posso fare dai 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 e raga avete visto i video di precedente che alcune volte ho levato la webcam ho velocizzato il video sapete perché? l'ho fatto perché il video era troppo noioso quando l'avevo registrato volevo provare a fare questa cosa poi alcuni video venivano troppo noiosi poi ho rifatto ho rifatto da capo non lo sto perché? vabbè l'ho fatto perché volevo fare figli video ho visto alcuni amici mia che hanno fatto dei videogame hanno fatto dei gameplay di un gioco impossibile che era tipo un fermario anzi a Sonic che lo portano anche io sul canale che no 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 ok lo farò quando ho finito la serie in un fermario tutto ok ma anche se questo qui non mi sa che lo finirà tra 32 episodi comunque raga farò sempre queste miniature fighe che secondo me sono molto fighe non le prendo da youtube non so tanto che le prendo da internet e poi le modifico un pochino e come fanno gli youtube tipo qua vj stepney che ha preso un'immagine tipo che ho fatto io e l'ha fatta e ci ha messo la sua faccia vai si si no porca vacca mia porca 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 vacchetta mia amo porca 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 velocizzo il video nella parte impossibile lo farò, nessun problema mamma mia, quando arriverò a 70 morti concludo subito l'episodio e portarci una vacca perché non riesco a superare questo livello portava mia mamma mia mamma mia ok no 56 morti, non vedo l'ora che arrivò a 70 come ho detto prima portavola, vai, vai vai, no mi sono sbagliato mamma mia 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 no raga, non ce la posso fare ce l'ho scritto nel mio vocabolario porca vacca c'è scritto proprio manpower non ce la può fare a scrivere sto livello a finire sto livello come posso dire non so come dire è impressionante vai forse qualcuno dei miei amici sta guardando sto livello sta guardando sto video deve subito chiudere e tra un po' spacco l'episodio non è quello di spacco il computer tanto sto video non andrà mai su youtube spero 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 vabbè tanto lo metterò di sicuro i miei pensieri nel futuro ci sono già scritti vai no 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 aspettate forse ho capito forse ho capito forse ho capito si 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 vediamo se è così vediamo no non era questo però c'era un'altra idea intanto vediamo se ci arrivo porca vacca raga non ce la posso più fare vai dai 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 che ce la posso fare dai che ce la faccio vai vai non è per così no dai 68 due volte e finisco l'episodio vediamo se ce la posso fare vai vai no dai l'ultima e concludo spero che ci fa faccio vai no ok raga concludo quell'episodio lasciando i commenti mi piace creeper per favore fammi esplodere il computer bella raga ecco mi ha fatto esplodere il computer come volevo tanto fare dicisco ok 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 Grazie.